questa equazione differenziale qual è quella funzione a cui trovata prima meno la tangente di x per la funzione stessa è uguale a e alla semia x ok, abbiamo non una condizione iniziale ma un dominio datoci dall'esercizio ossia x appartiene all'intervallo meno pi ricomezzi, pi ricomezzi esclusi riconosciamo che è una funzione del tipo y punto uguale una certa a di x per y e uguale un termine noto f di x la cui soluzione è data da un integrale del tipo e alla meno primitiva di x il tutto per l'integrare di f per e alla primitiva e quindi nel nostro caso abbiamo e alla meno integrale della tangente di x e di x il tutto che moltiplica l'integrale di e alla seno che è la nostra f di x per e alla una primitiva della tangente adesso o la sapete a memoria o la pensate come integrare di sen x su cos x ma vedete che comunque vi esce il logaritmo nel coseno di x occhio ai segni qua abbiamo e alla meno logaritmo nel modulo di cos x mentre invece dentro abbiamo e alla più logaritmo nel modulo di cos x dato che siamo tra meno piricomezzi e piricomezzi il coseno è sempre positivo è troppo tra 0 e 1 e quindi è la logaritmo nel modulo fa esattamente il coseno di x ci rimane questa integrale che è banale dato che abbiamo una funzione del tipo e alla seno di x per cos x in dx e cos x in dx è proprio il differenziale della funzione quindi possiamo scrivere che abbiamo 1 su cos x per e alla seno di x e occhio importante a farsi uscire la costante dall'integrale grosso e... bene... ciao!